La polis di Atene. Il governo del popolo ad Atene. Questa forma di governo è detta democrazia. Governo del popolo. Una democrazia era importante formare dei cittadini che fossero in grado di partecipare al governo della città. Per questo motivo i bambini andavano a scuola per imparare a leggere e a scrivere. Recitavano poesie. Imparavano a suonare degli strumenti musicali. Parlare davanti a tante persone. Studiavano matematica. Geografia. Arte e astronomia. A partire dai 14 anni si dedicavano alla lotta. Al lancio del disco e al nuoto. Le bambine imparavano a cucinare. A filare e a tessere. A leggere poesie e a suonare degli strumenti musicali. Vivevano dentro casa. Uscivano solo per andare al tempio a pregare le divinità.